Noi siamo qui per requisire, noi appoggiamo ogni inciucio, si ringraziano i capi di partito per il nostro sostegno al nostro candidato politico, noi siamo qui per reprimere il popolo avversario, la rielezione di Napolitano è un chiaro segno di amicizia con il popolo tedesco e del genio militare del nostro Führer. Hei Hitler! Hei! Come sta? Lus! Voglio sapere chi è stato, vogliamo sapere chi è stato! Maresciani! Vieni qui! Vieni qui! Che successe? Il centro di me è discorso in piazza, qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca! Ma no! Sì! Il rumore con la bocca! Con la bocca! Ma chi è adesso in questo paese se non veste a fare il rumore con la bocca? Non capite, non capite, maresciallo! È stata fatta una pernacchia! Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma ne sai niente! Dite la verità, avete sentito qualche cosa? Ma tu, ma ne sai niente! Porca miseria, voglio sapere! Ma non avevo sentito niente! Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Sento tutto! Di Sturigemusk-Fürttembergen! Capito! Come faccio a capire il tedesco, signor Tenente? Il Tenente Chedro dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento, un momento, signor Tenente! Calma, abbia pazienza! Adesso avremo un'inchiesta, faremo delle indagini! Ci sono qua io, sono maresciallo! Adesso no, che maresciallo sono? No, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie, come si fa? Sa, ci sono delle pernacchie acute, roboande, lunghe, corte, medie! Sa, ci sono anche le medie, alle volte! Adesso vediamo un po'. Lei dice... Basilio, vieni qua subito! Fai una pernacchia, Tenente! Come mi permette? Come si venisse? E per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Vediamo un modello! Avanti, fai una pernacchia! Ma che stava chissero? Non so com'è, questa non ossa, si vergogna, ha paura, ecco! Lo autorizzi, scusa! Autorizzo! Avanti, autorizzi, su, fai la pernacchia! Eh, così? No! Certo, forza, ha ragione! Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia! Più forte, su! Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro del discorso! Vorrebbe ripetere per loro così si crea l'atmosfera? Il genio militare del nostro fiore! Sì! Eh, così? No, porca miseria, è una cosa difficile, sa? È una cosa difficile? Postino, vieni avanti! Sì, sì! Guardi una pernacchia, tenente! Ma io non so... Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Perbacchio se non è schiaffo a qualcuno dentro! Va bene! Ecco, ripeto le parole, scusi! Al genio militare del nostro fiore! Eh! Così? No! Nemmeno così! Signor tenente, lo ricordo benissimo! La faccio io! Ehi, no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti! Signor tenente, è questa! Signor tenente! Sì! Eh, siamo a cavallo! Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole! Basilio, siedi! Scrivi! A verbale! Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei R.R.C.C. Si è presentato il tenente Kessler, il cuore, di sua bocca, dichiara!